Primo maggio, negozi aperti o chiusi? Una questione che si ripresenta di anno in anno e che ogni volta genera più di una polemica. Da una parte chi crede che una città turistica non possa presentarsi con le serrande abbassate nei giorni di festa, dall'altra chi pensa che in certe occasioni si possa rinunciare allo shopping. Posizione è quest'ultima condivisa dalla CGL, che ha proclamato uno sciopero di otto ore nelle aziende che hanno stabilito l'apertura per il primo maggio e, a sorpresa dall'assessore al commercio del comune di Como, Gisella Introzzi. Con la liberalizzazione del settore e degli orari, dice, la scelta di aprire o no il primo maggio è totalmente demandata ai commercianti, ma a titolo puramente personale penso che non sia una data come le altre e se avessi un negozio lo terrei sicuramente chiuso. Mi sembra giusto, aggiunge Introzzi, che tutti i lavoratori possano celebrare la ricorrenza. Non penso, conclude, che una giornata di chiusura dei negozi possa fare danni al turismo in città. Una posizione personale, ribadisce l'assessore, ma che inevitabilmente riapre il dibattito sul tema e sul ruolo di Como, città turistica. Personalmente il primo maggio terrei aperto, nel senso che non capisco questa crociata con laica sulla sacralità del primo maggio. I giorni di chiusura effettivamente da rispettare sono quelli delle festività religiose, a patto che i negozianti lo decidano. Se vogliamo, come ci dicono, dobbiamo essere anche al servizio dei turisti, direi che il primo maggio, proprio in virtù della festa che non è solo italiana, ma è anche per esempio della vicina Svizzera, direi che potrebbe essere un'opportunità di fare un servizio al turismo. Ancora più nette le posizioni dei numerosi commercianti che hanno già deciso di tenere i negozi aperti il primo maggio, comunicandole ai clienti, in qualche caso con tanto di orari esposti, in vetrina. Ci vogliamo capire che questa città sta passando dall'industriale al terziario avanzato, cioè al turistico. Se non lo capiamo, continueremo a farci queste domande. Quindi? Quindi sempre aperti, ovvio. Siamo aperti, come ogni festività, rimaniamo aperti. E secondo me è un bene anche per i turisti, perché è bello arrivare magari in una città come Como, che paesagisticamente parlando è molto bella, ma che abbia anche dei servizi per i turisti, appunto. In questo periodo subiamo un po' la mancanza dei parcheggi e abbiamo avuto anche un calo su questo, però finché continuano ad arrivare turisti comunque teniamo aperto.